Grazie al telefono, 7.000 euro giunti in diretta. Qua viene a noi il certificato di questo importante anello, proprio per la sua importanza, merita uno sguardo. Due carati di diamanti taglio vecchio completano il giro, veramente una montatura elegantissima, conservato benissimo, nonostante l'epoca. Zaffiro, tono fiordaliso, trasparente, silon, Sri Lanka, non riscaldato. La certificazione del dottor Dunegre accompagna l'oggetto e vi dimostra quello che sono le potenzialità gemmologiche. Siamo al momento a 7.000 euro. A voi la possibilità di entrare in gara a 7.500 per questa creazione unica. Per questa creazione unica. Approssimativamente 9 carati ovale, very good, non riscaldato, silon, Sri Lanka. Con la foto del gioiello, giustamente. Sono lieto di potervelo aggiudicare ai 7.000 euro. Per la prima, inizio il conteggio, siate rapidi, 7.000. Per la seconda, e così vediamo aggiudicato l'8.323 a 7.000. 1, 2, 7.000, complimenti, aggiudicato. E ci lascia questo piccolo capolavoro di tecnica. Vediamo allora, proseguendo sullo stesso tema, Stiamo parlando di un bracciale più recente, perché siamo negli anni 50, ma abbinabile come tonalità all'anello appena visto dell'inizio del secolo. Abbiamo una bellissima montatura, lineare, ma lavorata comunque, che unisce metalli preziosi come l'oro giallo 18 carati e il platino. Lo trovate all'interno. Hanno abilmente impiegato il platino, elemento metallo nobile dal colore bianco, per esaltare il colore dei diamanti. Per lo zaffiro hanno impiegato l'oro giallo 18 carati. Pensate che nel decoro trovate sei zaffiri naturali del Silon, dello Sri Lanka, che insieme raggiungono la massa di 23 carati. Una massa molto importante. Anche perché, essendo sei, ognuno dei sei ha una caratura elevatissima. Siamo negli anni 50, tra l'altro il diamante ha una forma leggermente a cuscino, piacevolissimo. Avete fatto bene a confermare la base e fare qualche rilancio in più. Il diamante dal nostro, dal listino internazionale Rappaport, viene quotato in base alle caratteristiche, al taglio vecchio, perché il taglio vecchio ha la sua quotazione, 8.100 dollari. 8.100 dollari è il valore. Siamo veramente ancora in una fascia protetta. Praticamente un terzo. Lo aggiudico. Complimenti. 2.800 per la prima, 2.800 per la seconda, e 2.800 è così che ci lascia l'8.325. Aggiudicato a 2.800, grazie. Proseguiamo con il tema degli orecchini. Abbiamo in questo caso una coppia di orecchini molto eleganti, molto lineari, facili da indossare per la loro dimensione e il loro peso contenuto, piacevoli perché ricchi di materiale. Sono una coppia di orecchini deco, perno e farfalla, realizzati in platino, con montature morbide, arricchite da diamanti, taglio brillante e baguette, per 2 carati totali, e abbiamo questo così richiamato tutto il contorno, ma in più ci sono 2 gocce che singolarmente superano il carato. Un carato e 30 a una, un carato e 30 l'altra, per un totale di 2 carati e 60. Poi domani passeremo alla quinta e alla sesta. Abbiamo in questo caso i 20 mila euro di base, signori, ma per una gemma che viene quotata a 60 mila dollari di Rappaport. Un operatore del settore, un privato, veramente chiunque capisca che di fronte a noi abbiamo un diamante da 4 carati, IJ, Purezza SI, attenzione, anche se abbiamo delle piccole inclusioni, non compromettono la brillantezza. Guardate le immagini, guardate le immagini. La brillantezza non è compromessa dalle inclusioni, è un anello piacevolissimo, che alla base, a questo punto, doveva essere già confermato. 4 carati taglio Amsterdam. E la base è confermata. Base d'asta è confermata, in questo caso, da un operatore del settore, e giustamente, noi siamo bravi a presentare i lotti, è? Lo so. 20 mila euro, complimenti, complimenti perché è un anello, oltre che per il valore del diamante, è ben rifinito, è ben rifinito. Non aggiungo altro, io vi do solamente qualche istante per pensarci, se a intervenire con mille euro in più, perché oggi un diamante del genere a 20 mila, a 20 mila, in qualsiasi parte della Terra, non lo trovate. Ricordatevelo. E così chiudiamo in bellezza la sessione, con la giudicazione, di questo importante diamante. Non meno importante di quello che avete visto nella sessione di questa, delle ore 12, da 4 carati e 44, è anche una cifra particolare, un susseguirsi, no, di 4, pazzesco, è difficile da trovare. Aggiudico ai 20 mila, alla base, complimenti a chi eventualmente... 20 mila, non penso, 20 mila euro per la prima, vado ad aggiudicare, pochi secondi, complimenti da tutti noi, perché era un esemplare tenuto come ultimo lotto, lotto di punta, non a caso, eh. 20 mila euro per la prima, 20 mila euro per la seconda, ed è così che aggiudico il top lot della sessione di oggi, 1, 2, 20 mila. Il lotto 330 ci lascia, è aggiudicato, anche se alla base d'asta, devo dire, vi faccio i miei complimenti. abbiamo un po' di materiale, un po' di tempo a disposizione, adesso insieme andremo, c'è qualcosa con 50, no, perfetto, andremo a vedere insieme, nessun problema, li vedremo domani, la nostra regia anticipava i lotti di domani, nessun problema. Adesso insieme andremo a vedere i lotti rimasti invenduti, male, possiamo partire da oggi, vediamo la gioielleria, vediamo la gioielleria partendo proprio dal primo lotto, si partiva dal lotto 231, che è stato aggiudicato, io mi aiuto proprio con la regia, che mi ha detto, la base confermata, da un operatore del settore, giustamente, sei carati di diamanti, ma attenzione, sei carati distribuiti su gemme, di grandissima portata, solo pensare, per il nostro pubblico, che il diamante finale, è di un carato e ottanta, il diamante finale, è di un carato e ottanta, delicatamente adagiati, su motivi richiamante lo stile, floreale, ma anche quello geometrico, è proprio un gioiello fine, raffinato degli anni trenta, realizzato in platino, con questa semplice decorazione, che vi potrà permettervi, appunto, di portarla con estrema facilità, in qualsiasi occasione, nonostante l'elevata preziosità, non è un gioiello, proprio da tutti i giorni, con sei carati di diamanti, uno dei quali, solo lui, quello che state vedendo, un carato e ottanta, ma guardate che gli altri, non sono da meno, saranno gemme da mezzo carato, da settanta punti, siamo ben distanti, signori, dai quattromila euro di valore, siamo ben distanti, io posso giudicare, vedete voi, sappiate che un altro collier del genere, con sei carati di diamanti, di questa dimensione a quattromila, sarà difficile poterlo trovare sul mercato, visto l'importanza dei metalli preziosi, delle materie prime, dei diamanti, che hanno preso il 30% nell'ultimo mese, quattromila euro inizia il conteggio, per la prima, quattromila euro per la seconda, e quattromila euro, poi vedremo questo affascinante anello, il lotto 323, uno, due, quattromila, tutti d'accordo, e così allora ci lascia il lotto 322, andiamo a vedere il lotto 323, non è da meno, un piacevolissimo anello d'epoca, siamo a cavallo tra l'ottocento e il novecento, noi abbiamo indietro, arricchita da diamanti taglio wit-wit, e diamanti taglio baguette, il tutto viene confermato dal laboratorio ACG di Valenza, che ci dà conferma dell'estrema qualità, so che avete confermato la base, che a 15.000 è confermata, sono contento che dall'altra parte ci sia qualcuno che abbia capito al volo l'eleganza estrema dell'oggetto, nonostante la semplicità e linearità, perché è così, ma veramente a questa cifra avete fatto benissimo a confermarlo. Io vi do pochi secondi, poi vado oltre, 15.000, 1.000 euro in più se volete entrare in gara, non sappiate che non ci saranno altri collier con 22 carati di diamanti a 15.000. 15.000 euro per la prima inizio il conteggio, 15.000 euro per la seconda, e 15.000, 1, 2, 15.000, ed è così che viene aggiudicato il lotto che abbiamo appena visto, meraviglioso collier. Andiamo alla spilla, 2005, una spilla americana, dal gusto déco, degli anni 30, originale, realizzata in oro bianco, con una losanga come motivo, realizzata a losanga, gusto geometrico, bordure milligranate, diamanti taglio vecchio e europeo e diamanti taglio baguette, per totale 4 carati, piacevole, con questo turchese incastronato al centro, al centro è di grande formato, sono 5,7 centimetri, ricca di materiale, e diamanti taglio,